Mario Negro, oggi il direttivo di assortenimento ha approvato questo albo, diciamo così, domestico per i gestori. Ecco, perché questa scelta e qual è la sua impressione personale? Io penso che l'associazione debba anche dare un sostegno proprio all'associato e può essere una grande opportunità quella, diciamo, quella che ha suggerito Pucci, quella di cercare in qualche modo di dare un sostegno a tutta questa situazione parecchio pesante, burocratica, che va, diciamo, a pesare sui gestori. Quindi la vedo veramente un'ottima cosa. Ecco, dopo la pubblicazione del decreto dei monopoli di Stato si è aperto il dibattito come era inevitabile. Ecco, come lo vede lei, vede le criticità in questo decreto? Sono quelle che abbiamo parlato oggi, cioè, ad esempio, leggendo, sembra che ci siano molte, cioè che ci sia più incombenze che positività, che vanno di nuovo a incidere sui gestori. Una è quella, ad esempio, che è come se fosse un'imposizione della fiducia, che poi oggi parlando viene fuori che può esserci anche la prerogativa da parte del gestore di fare un accordo col concessionario e mettere per iscritto quale può essere, ad esempio, il rapporto. E questa è una cosa. L'altra, il fatto, ad esempio, di pagare 100 euro anche da parte dell'esercente e le varie documentazioni antimafia e tutto quello che viene richiesto, purtroppo molte volte vanno ugualmente a ricadere di nuovo sul gestore. Quindi aumentano non solo le incombenze che il gestore deve sopportare all'idello burocratico, ma anche i vari costi. Quindi, da un lato c'è il vantaggio di essere riconosciuti come attività, dall'altra il costo non è troppo leggero tutto lì.